Cari italiani, in questo breve video cercherò di spiegarvi la più grande truffa che stiamo vivendo dal primo marzo 2002. Sto parlando della moneta euro. Osservate questa banconota da 20 euro. Non è riportata da nessuna parte la dicitura, pagabili a vista al portatore, come era mentre riportata sulle nostre vecchie lire. Ovviamente c'è un motivo. La BCE, ossia la Banca Centrale Europea, non ha nessuna riserva aurea. Andiamo avanti. Guardate sul lato destro della bandierina dell'Europa. Ci sono gli acronimi della Banca Centrale Europea nelle varie lingue. Ma tra la bandierina dell'Europa e gli acronimi c'è il simboletto del copyright. Per quale motivo sulle vecchie lire non vi era? Perché su un francobollo o su una marca da bollo non vi è mai riportato il simbolo del copyright? Il copyright per sua natura è di diritto privato. La moneta è invece per sua natura è di diritto pubblico. Se vai al ristorante ed il titolare si rifiutasse di accettare moneta euro, sta commettendo un reato perché la moneta è un istituto di diritto pubblico e a corso forzoso. La deve accettare per forza. Ma l'euro, emessa dalla BCE, non è affatto una banca centrale in quanto è un accordo di natura privatistica fra banche centrali nazionali, che infatti restano proprietarie della riserva aurea. Per cui è solamente un accordo privato fra banche centrali. Addirittura, nell'accordo, sono entrate banche che non adottano l'euro. Ad esempio, la banca centrale inglese che non adotta l'euro nel suo paese. Per cui, giudicate voi stessi cos'è la moneta euro. Inoltre, voglio farvi risentire cosa disse il grandissimo scienziato romano Prodi dell'euro. Con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più. Se sei d'accordo in quello che ho detto, lascia gentilmente un mi piace a questo video. Inoltre, se ancora non lo hai fatto, per favore, iscriviti a questo canale ed attiva la campanella delle notifiche. È l'unico modo per sapere le verità che ci vengono nascoste. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Al prossimo video!